Ehi, come va, youtuber? Sono Richie da Boston. Oggi è il 13 marzo 2017. Ho postato questo video per dimostrare che nel video chiamato Prova che la Luna non è lontana 384.400 km, sono stato colpito da un'intera armata di troll. Proprio adesso il modo in cui agiscono è fatto di ben quattro settori separati di troll che costantemente commentano ed attaccano il canale. Inaspettatamente. Voglio spiegarvi qualcosa. Vedete questo pulsante per l'iscrizione? Cliccate su questo pulsante di iscrizione e spuntate la piccola campanella vicino ad esso perché i commenti che ricevo dai miei iscritti regolari mi informano che non ricevono le notizie. E questo sta andando avanti da sei mesi. Mentre i troll da cui sono attaccato, bene, quelli sono gli standard troll antiterrapiana, antiglobalista, anti-NASA o a favore della NASA che attaccano tutti gli altri canali da molto tempo. E probabilmente è il mio turno adesso. Il primo commento, il numero uno che ho ricevuto è stato Ti rendi conto che la luna è molto più grande del tuo edificio? Certo, lo so. In realtà ho detto nel video, penso un paio di volte, perché non guardate il video anziché semplicemente leggere il titolo e commentare? Questo è quello che fanno molte persone. Il fatto che il palazzo si trovi lontano sei chilometri e mezzo e la luna, come riportano, come riportano, è lontana a 384.400 chilometri, equilibra la differenza delle dimensioni. Riuscite a vedere quello che dico? Ora, per tutti i commentatori simili a Tu sei un idiota, questo è ridicolo, bla bla bla. Dove sono le vostre prove? Dove si trova una delle vostre prove di quello che voglio sapere? Vedete questo? Sto facendo questo da moltissimo tempo. Vedete il primo qui? Video sulle scie chimiche. Questo è stato pubblicato almeno quattro anni fa. E poi i video sulle scie chimiche che seguirono, ed i video sul sole, sono iniziati almeno tre anni fa. Sto facendo questo da lungo tempo. Durante questo tempo ho parlato con un sacco di esperti che studiano questo per vivere. professori, ex presentatori in meteo, e via di seguito, e avanti, e bla bla bla. E avete visto questo video sul brevetto della NASA del sole finto? Sono stato uno dei primi che ha pubblicato questo su YouTube. Il primo. Quello che molti altri canali mi hanno copiato, semplicemente senza mettere il link a questo video. Questo brevetto mi è stato inviato da un ex impiegato dell'agenzia che ho nominato. Lascio la visione di questo. Ecco perché ho questo. E fin da allora ho seguito instancabilmente i fili, ma non sono andato sugli altri canali per commentare che lo avevo tirato fuori dal mio bagaglio. Se dovete commentare qualsiasi cosa su questo, dimostratelo. Sostenetelo. Perché ho abbastanza materiale. Capite cosa sto dicendo? E poi ricevo i commenti dove mi raccontano delle nuvole differenti, a livelli differenti. Gente, avete visto ancora questa tavola della NASA che stanno distribuendo ai bambini nelle scuole? Stanno ridefinendo la classificazione delle nuvole. Si chiama scuola, carta di identificazione delle nuvole. Ed è anche spalleggiata dalla NASA. Riuscite a comprendere quello che dico? Stanno spruzzando l'atmosfera così male che in realtà devono riinsegnare alla generazione futura come sono fatte veramente le nuvole. E così le mie nuvole, quelle della mia giovinezza, se ne sono andate, sono state riclassificate molto tempo fa. È molto triste questo. Ma nessuno importa nulla di ciò. E questo video ha solo 2000 visualizzazioni. E si trova là da almeno un anno. Questo canale è uno dei canali pesantemente più censurati che abbia visto, mentre i miei iscritti crescono di un migliaio ogni paio di giorni. Quindi apparentemente sta succedendo qualcosa che lo soffoca. È una prova di questo. Ecco, è tutto qui? Sono sempre nel giusto? Non lo so, non l'ho mai detto che lo sono. Non sono un esperto in tutto. Sono un tipo con un portatile. Ma sono anche un tipo col portatile, col telescopio, col binoculo e molte, molte macchine fotografiche dove la cosa principale sono le scie chimiche e per quale motivo nascondono il sole. Pertanto, quando lasciate un commento poco corretto, per favore indicate il link nella descrizione. Per gli iscritti irregolari siate accorti di cliccare sul pulsante di iscrizione e poi la piccola campanella a fianco perché YouTube vi disiscrive e vi tiene fuori dalle iscrizioni ad un ritmo abbastanza rapido. Un'altra cosa che dicevo spesso è sulla terra pian. Non sono un vero terrapianista perché non posso dimostrare che la terra è piatta, ma ve lo dico. Sono stato in un sacco di località proprio per questa ragione. Sono salito a 15.000 piedi e recentemente ho lanciato un drone di altri 1.000 piedi e sapete cosa? Non ho rilevato alcuna curvatura, nessun accenno. Non voglio ancora dire di essere un terrapianista o che si tratta solo di qualche fattore di immaginazione, ma per le persone che mi dico se la terra è piatta come fai a starci su? E che dite allora? Se la terra è tonda come fai a starci su? È incredibile che ascoltate qualcosa che arriva da qualcuno col camice da laboratorio, ma che in realtà è qualcosa che ha più senso per voi quando potete vederlo con i vostri due occhi e poi testarlo voi stessi nel vostro giardinetto, dovunque possiate farlo, sull'oceano, l'orizzonte, o andare sulla vetta di una montagna. Nessuno fa questo. Io lo faccio. Ricci da Boston. Chiudo. Chiudo.